Acquaviva Giovanni nasce a Marciana Marina, sull'isola d'Elba il 30 ottobre 1900. Partecipa per tre volte alla Biennale di Venezia, per due volte alla Quadriennale di Roma e a numerose mostre sia in Italia che all'estero. I suoi lavori si distinguono per una particolare sensibilità incandescente e rutilante sia nella pittura che nella lavorazione della ceramica che nella poesia. Alla Galleria Nazionale d'Arte Futurista è conservato il ritratto del poeta Marinetti. Acquaviva Giovanni si spense a Milano il 21 agosto 1971. Grazie a tutti.